Arrivando al giambellino, gli batteva il cuore dell'emozione. Fai montare, dai, non bluffare. Gli ho sentiti nitidamente nutrire. Ma che cos'è nutrire? Nutrire è il verso che fa la famiglia a cavallo, no? Famiglia a cavallo? E loro sono tracemati al sud cinque anni fa. Tracemati al sud? Adesso come lo trovo? Che chiamo per trovarlo? Che sei, gemelli da versi? Sono gemelli da madre diversa. Ho un zigoto. Pensavo fossero estero zigoto visti così. Portatore sano di denti. Beh, un grosso bravo al parrucchiere. Ha fatto un gran bel lavoro. Dufino. Oh, a proposito, al momento del grande esodo, a che numero hanno arrivati i cavalli? Quasi quaranta. Allora sono tracemati pover dos. Anche voi siete parecchi però, eh? Con i nonni, i bisnonni, anche i gemelli siamo sulla cinquantina noi. Un quartiere di Bucarest. Vabbè, ciao Teron. Teron non è che sono Lombardovedo. Ciao Veccio. Eccomo qua, senza una casa.